Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti in questo canale, sono Daniele, un e-commerce manager esperto di dropshipping del marketplace e a proposito di marketplace, oggi voglio parlare con voi del dropshipping su facebook, su facebook marketplace e di 4 cose da sapere prima di iniziarlo, quindi resta qui, non ti perdere questo video perché sarà molto interessante Grazie, bentornati, benvenuti nel mio canale, sono Daniele, oggi andiamo a parlare di facebook marketplace, un argomento che vi interessa davvero molto di cui mi chiedete spesso notizie, oggi ho deciso di condividere con voi 4 punti critici da sapere prima di iniziare a fare dropshipping su facebook come sapete ho una rubrica settimanale dove parlo di facebook marketplace, ho mostrato, ho un case stati più o meno in corso su facebook potrò aggiornamenti a breve su come sta andando, su cosa è successo perché qualcosa è successo quindi vi metterò presto a corrente e oggi mi sono segnato 4 cose che ho imparato su facebook marketplace che desidero condividere con voi prima che iniziate cos'è un attimo, facciamo un attimo il punto della situazione, i dropshipping su facebook marketplace come sapete, se non lo sapete ve lo spiego ora, facebook ha da poco lanciato negli Stati Uniti a breve lo lancerà in altre parti del mondo, la possibilità di spedire gli articoli nel marketplace e quindi fare un checkout integrato dentro facebook stesso quindi gli acquirenti potranno pagare da dentro facebook con la loro carta di credito ai venditori ai venditori verranno pagati, cioè riceveranno il denaro da facebook stesso potranno quindi inserire i tracking numbers su facebook e quant'altro come ogni altro marketplace, come ebay, come amazon questa è una grande notizia io ho da poco iniziato a fare dropshipping su facebook vi lascio in descrizione anche il link dei video precedenti così che potete andare a vedere ve lo consiglio, sono molto interessanti dall'altro iscrivetevi al canale, mettete mi piace così resterete aggiornati facebook marketplace al momento, secondo la mia opinione è la più grande opportunità nel dropshipping a livello di vendite, sono allucinanti a livello di traffico che considerate che facebook ha circa un miliardo di persone che utilizzano il marketplace un miliardo ragazzi, più di amazon il problema è a differenza di amazon che ovviamente nel marketplace non tutti hanno ancora la spedizione però immaginate quando tutti ce l'avranno quindi ragazzi è un traffico assurdo da sfruttare negli altri video spiego nel dettaglio come si fa, come ho fatto, come sto facendo quindi andate a vedere gli altri video che è quello ma ora andiamo a vedere un attimo quattro cose da sapere prima di iniziare il facebook marketplace la prima ragazzi, voi andiamo a parlare che penso sia la più importante per voi se iniziate a fare dropshipping su facebook in USA perché in USA, in America perché è l'unico posto dal momento da avere la spedizione UK sta entrando, non so se è già arrivata quindi il checkout integrato volete anche fare il dropshipping in Italia su facebook però non avete il checkout integrato ho spiegato in uno dei video precedenti come fare ma ovviamente la cosa la novità l'opportunità sta nell'avere il checkout così le persone pagano la loro carta di credito con Paypal e quant'altro che tende su facebook quindi se fare il dropshipping in USA dovete sapere che facebook prima di 500 dollari comunque dopo i 500 dollari vi chiede la verifica dell'SSN cioè il Social Security Number americano quindi dovete avere un SSN per fare la verifica vi chiede il conto bancario perché il conto bancario è un problema volete mettere anche un conto bancario non USA non americano o comunque potete utilizzare i servizi come Payoneer o TransferWise ma l'SSN ne dovete metterlo quindi avete bisogno di un'identità un'entità americana da verificare questa è la prima cosa che dovete sapere dopo i 500 dollari se non fate la verifica facebook non vi manderà più i soldi in banca e tratterà tutti i soldi fino a quando hanno completato la verifica quindi è obbligatorio da fare questa è la prima cosa che vi dico di sapere ovviamente poi non è così semplice iniziare il dropshipping con facebook per voi perché non avete gli account americani sto pensando di farvi un video specifico riguardo gli account su come ottenerli ovviamente dovete comprarli a meno che non avete già un account americano o qualcuno che ve lo li ha graduito la seconda cosa da sapere è che al momento come sapete io dropshipping su facebook lo faccio tramite ods.com che è una piattaforma all in one quindi tutta in uno con vari fornitori e vari marketplace dove vendere compreso shopify e compreso facebook il problema è che al momento non viene sopportata la sincronizzazione degli ordini quindi se vi arriva un ordine su facebook non sarà sincronizzato su auto ods quindi dovete andare su facebook a differenza magari di ebay dove gli ordini sono sincronizzati e avete tutto in un luogo quindi dovete andare su facebook dovete magari utilizzare degli excel per tenere traccia della situazione di cosa sta succedendo non è proprio un vero problema però richiede un po' di tempo questo infatti perché io ho messo una VA un assistente virtuale a fare questo lavoro oltre all'inserimento perché inserire i prodotti è anche un processo un po' più lento rispetto ad altre piattaforme perché vi ripeto facebook è una novità quindi ancora gli sviluppatori sono in corso di prove sono in corso di sviluppo quindi non ci sono tantissime integrazioni ovviamente e anche perché facebook è un sistema abbastanza chiuso è un'azienda abbastanza chiusa quindi questa è un'altra cosa da sapere la terza cosa ragazzi è riguardo ai tracking numbers facebook al momento supporta solo UPS e FedEx in America ovviamente quindi se spedite con altri corrieri sui vostri fornitori vi spediscono con altri corrieri come ad esempio non so Amazon se spedite tramite Amazon Logistics quindi utilizzando Amazon come fornitore non potete inserire un codice tracking non potete quindi c'è Facebook o un po' tracciare il pacco nulla di irreparabile nulla che non potete far da meno ci sono dei workaround ci sono dei modi per andarci attorno potete semplicemente mandare tipo un messaggio privato con il codice tracking o chiedere all'acquirente di contattarvi se vuole il codice tracking infatti Facebook offre anche ad esempio un'automatizzazione dei messaggi potete spedire messaggi a chi acquista eccetera così da poter diciamo creare questo piccolo sistema con gli acquirenti anche perché sono c'era ragazzi la conversione c'è su Facebook io non l'ho vista in nessun posto al momento è una cosa assurda questa era una terza cosa da sapere la quarta e ultima cosa da sapere per questo video però ovviamente ce ne sono molte altre però video seguitemi scrivetevi mettete like così che ogni settimana restate aggiornati prossima settimana arriveranno altre novità altre news su Facebook la quarta cosa da sapere in questo video è che Facebook richiede la spedizione entro tre giorni dall'acquisto quindi non potete non c'è un'opzione solitamente sui bei su Amazon potete fare le vostre politiche di spedizione e quant'altro quindi inserire entro quanto spedite in quanto tempo consegnate su Facebook non è possibile Facebook vi dice dovete spedire entro tre giorni quindi entro tre giorni dovete marcare spedito l'articolo e inserire se ce l'avete il tracking number questa è una cosa da sapere su Facebook molto importante e mi è venuta in mente in questo momento un'altra cosa da dirvi e ve la dico quindi cinque cose da sapere su Facebook non quattro la quinta cosa da sapere che mi è appena venuta in mente è che non avevo incluso questo foglio tra l'altro non so se l'ho detto negli altri video ma forse la più importante di tutte se non avete budget è che Facebook non vi dà i soldi immediatamente Facebook trattiene i vostri soldi un po' come fa Amazon come fa anche eBay da poco con i pagamenti semplificati trattiene i vostri soldi per trotte giorni solitamente cinque o sei giorni lavorativi e poi ve li mandano acconti in banca quindi se fate il drop shipping dovete avere il budget spedire gli articoli che vedete spedire in tutti i giorni non potete fare il giochetto e aspettare i soldi in banca e usare con gli stessi soldi ragazzi queste cose non esistono in nessun tipo di marketplace nemmeno su Shopify sono le bugie che vi dicono tutti quei grandi sapete che mi chiediscono non è un sistema che funziona potete farlo per un paio di ordini ma appena arrivano molti ordini i soldi qualsiasi processi di pagamento che sia Paypal che sia Facebook che sia Amazon che sia Shopify che sia Shopify che mi mette in sospeso il denaro per qualche giorno e quant'altro delle riserve quindi non è un sistema che funziona lasciate stare avete bisogno dei soldi per spedire gli articoli questa è un'altra cosa da sapere quindi 5 cose da sapere su Facebook con questo ho detto tutto per oggi e vi chiedo di istruirvi nuovamente al canale fatemi sapere nei commenti se l'argomento Facebook vi interessa e cosa magari vi piacerebbe affrontare perché credo che sono l'unico in Italia che sta facendo dropshipping su Facebook e quindi molti di voi sicuramente avranno domande avranno dubbi fatemi sapere nei commenti così so esattamente a cosa rispondere e così tramite i vostri commenti posso fare dei video che vi possono servire e vi possono rispondere ai vostri dubbi grazie di essere rimasti fino alla fine ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao